Io. Oh bro, ormai anche i peggiosfigas sanno aprire le birre con gli apizzini. Ma i veri crassi non si fermano questo. Bisogna svoltare con altri sgami. Se avete un pezzo di carta, piegatelo a nastro, a nastro eh, mi raccomando, finché non arrivate ad avere un tocchetto duro di brutto. Poi la mossa è la stessa dell'apizzino. Fate leva e tac. Stiloso eh? Stacciarsi una birra così.